Le sondazioni di una fogna in alcune abitazioni private di via Solferino a Faiano ed anche la probabile contaminazione dei terreni agricoli vicini è l'oggetto di una denuncia del Partito Democratico di Ponte Cagnano che pungola il sindaco Sica e la sua maggioranza. I nostri microfoni Federico Marra del Partito Democratico di Ponte Cagnano. Abbiamo già a gennaio denunciato tramite un esposto lo sversamento della fogna in un terreno privato che poi arriva in cortile dove ci sono dei bambini e questo avviene quando ci sono le piogge. Purtroppo qui abbiamo due ordini di problemi. Un problema di sicurezza delle persone e sanitario. Il comune continua ad ignorare nonostante questi esposti e ha mandato anche dei vigili che hanno verbalizzato la situazione ma più che mandare una ditta di espurgo pozzi per una pulizia non ha fatto assolutamente nulla. Il problema è molto chiaro. C'è una fogna insufficiente che raccoglie sia le acque piovane delle strade dove sta ma anche le acque reflue della località a Monte che è di Santa Tecno nel comune di Pugliano e quindi nel momento in cui arriva la massa d'acqua sversa questa fognatura nel terreno dove oltretutto ci sono delle colture e quindi ci sono bambini dove vivono in queste case ma ci sono anche delle colture che ovviamente vengono inquinate da questi liquami che sono assolutamente tossici. Perché questo disinteresse verso queste famiglie? Questo non lo riusciamo assolutamente a capire. Noi abbiamo chiesto un intervento che è della SIS ma dal punto di vista sanitario è la responsabilità del comune che deve fare pressione sulla gestione, sul gestore delle acque nella zona e non si riesce a capire perché effettivamente c'è un problema sanitario e non va neanche a disinfestare perché la nostra richiesta è quella di ristrutturare la fogna e quindi renderla più capiente e immediatamente di mandare qualcuno a disinfestare la zona perché è tutta inquinata da questi liquami.